Musica Buonasera amici sportivi appassionati di motori, appassionati di rally, 27esima puntata stagionale è un avvio di 2017 davvero scoppiettante, un grandissimo rally del Ciocco, un grande rally di Sanremo con Paolo Andreucci in forma strepitosa tante altre corse e protagonisti al di là di Paolo Andreucci che rimane la punta di diamante anche altri copiloti lucchesi e stasera ne abbiamo qui due che non corrono neanche insieme però noi li abbiamo stasera accoppiati sono con noi, allora li cito in ordine qui come sono accanto a me, il copilota navigatore, come ti piace più copilota o navigatore? Navigatore Navigatore Giacomo Ciucci, buonasera Giacomo, grazie di essere tornato a trovarci e il pilota in questo caso, pilota Stefano Martinelli, buonasera Stefano, grazie anche a te di essere con noi allora dicevamo insomma dei risultati sicuramente buoni, io comincerai proprio da Giacomo perché Sereduce, roba di tre giorni fa, da un secondo posto al settimo rally internazionale di Lirenas eravate nel Lazio, se non sbaglio, dalle parti di Cassino, provincia di Frosinone col tuo pilota Re sì eravamo no no, pilota Re nel senso che si chiama Re di cognome poi ce ne sono due di Re, vogliamo ricordare il tuo è Alessandro Alessandro, qui c'è anche Felice, no? Felice sì, eravamo tutti in gara con due esemplari nuovissimi di Fiesta WRC che il team di Max ha acquistato da M Sport, dalla Ford erano la ex Tanac e addirittura una ex Kubica degli anni passati niente, è stata la gara d'apertura dell'International Rally Cup Felice, il papà di mio pilota ha avuto un po' più di sfortuna per un piccolissimo particolare ha avuto un problema al cambio e invece noi abbiamo fatto la nostra gara in crescita perché poi alla fine la macchina era nuova, l'abbiamo provata poco è andata bene, siamo arrivati i secondi dietro ai rossetti sì sì, credo che possiamo vedere anche qualche contributo che ti riguarda i primi contributi che ti ho mandato Matteo no, che sappiamo perché insomma è stata una corsa un po' particolare dove tra l'altro avevamo anche altri equipaggi nostrani Ciavarella che ha avuto un problema ma sì, Ciavarella ha avuto un problema praticamente era anche in trasferimento a scaldare le gomme quindi era neanche in prova no, no, era lì fermo in trasferimento poi visto che non è partito ha avuto un problema hanno detto che ha avuto un problema in idroguida c'erano tanti lucchesi sempre con la WRC c'era il navigatore di Capezzano Baldaccini Emanuele che era con Pedro con la Hyundai di quelle la Hyundai Italia Motorsport poi c'era Rudy con un R5 Rudy Michelini e poi c'era anche giovanissimo Christopher Lucchesi che era con la 600 kit sempre navigato da sua mamma ora lui non so come è andato però gli altri purtroppo non sono andati hanno avuto un po' sì, hanno avuto il discorso di Michelini è un po' diverso lo vorrei affrontare sul discorso del rifornimento della benzina con te e poi anche con Stefano perché questo è un a termini regolamentari l'IRC riferisce ma vi dicevate dal CIL dal campionato italiano rally lui Rudy si è ritirato e si è ritirato non solo da questa corsa ma addirittura dice che ha rinunciato proprio all'International Rally Cup e quindi adesso vedremo poi ci farà sapere quello che sarà il suo nuovo programma come funziona rispetto al campionato italiano? è diverso qui no? ma fondamentalmente allora è obbligatorio transitare basterebbe solo transitare nelle zone di furing che sono le zone dove l'unico punto può fare il rifornimento per un discorso anche di sicurezza che sono situate subito dopo i parchi assistenza di solito il fatto degli IRC Cup era legato a questa regola ben scritta, definita dove dice che bisogna comunque fare benzina che è la benzina imposta al campionato già al primo rifornimento che vada benzina che sia sufficiente quindi fai tutta la corsa in pratica no, no, no fare almeno per il primo cioè non transitare basta ma ovviamente a quelle successive devi per forza mettere se non andare in fondo alla gara però devi comunque farla una quantità sufficiente già il primo refuring cosa che non hanno fatto ben 46-47 equipaggi non si sa se per distrazione o volutamente però è una regola scritta che è una regola che cerca un po' di alginare o comunque impedire il fatto che qualcuno possa partire a fare almeno il primo giro di gara con delle benzine a fare furbo che siano un pochino più però non è il caso di Rudy probabilmente non accetta questa regola non lo so è una regola è una regola che era messa anche in meretto dire la verità sul campionato e noi come Crugnola che era come Felice che erano in team con noi abbiamo messo la quantità che era per giù circa 27-30 litri per fare tutto il primo giro e tanti equipaggi tra cui anche Rossetti che ha vinto che ha vinto sono transitati senza fare benzina la direzione gara e il comitato organizzatore hanno pensato che probabilmente visto l'alto numero di equipaggi che ha fatto questa questa manovra che non era consentita hanno preferito optare per una semplice diffida diciamo una specie di cartellino giallo ne saltavano troppo già al secondo pacco di esistenza c'era già la metà macchina senti Stefano al campionato italiano non è così e tu cosa comunque ne pensi di questa regola di cui abbiamo parlato adesso con Giacomo no nel campionato italiano non è così cioè abbiamo sempre la benzina obbligatoria che è la solita penso nel campionato vostro la Panta però noi possiamo acquistare dei fusti di benzina prima per fare lo shakedown e eventualmente se non c'è necessità transitare nell'area refueling senza farla almeno per il primo passaggio perché dopo ovviamente e penso che ci vorrebbero forse un po' più controlli un po' più però è anche vero che sono tanti equipaggi mi metto anche dalla parte degli organizzatori sono tanti equipaggi e squalificare 47 vetture anche se hanno fatto una forzatura di regolamento eppure nel ciclismo successo è un altro sport sarebbe la cosa giusta in un giro della provincia dei primi anni 2000 che poi la corsa non è stata più fatta mi ricordo che ci furono arrivarono fuori tempo massimo tanti corridori e alla fine l'ultima tappa ripartirono in 18 pensate in un gruppone di più di 100 corridori ripartirono solo in 18 beh le regole però sono fatte anche per essere rispettate ovviamente altrimenti è inutile come diceva Giacomo metterlo in eretto la ragione sicuramente di Rudy comunque sia magari una penalità forse è proprio giusta questo è tanto chi è che immagini sono queste aiutatemi perché ne abbiamo selezionate talmente tante che adesso non lo so riguardano su terra forse senti tu Giacomo ora poi passo anche a Stefano hai detto no no ma io quest'anno voglio nel 2017 voglio correre poco va a finire con Re da una parte e con l'altro ragazzo dal Mazzini all'altra dal Mazzini all'altra questi siete voi? sì era Andrea che è ragazzo giovanissimo questa è dal Mazzini sì sì stiamo facendo purtroppo c'è stata una concomitanza in questa gara lui era a Liburna io ero a fare l'Irenas con Alessandro e mi ha sostituito una navigatrice ed è l'Eba lì siamo sul podio mi ha fatto il secondo assoluto un mesetto fa è che ti sta abbonando al secondo bisogna fare anche il primo basterebbe una posizione in più quindi senti Re da una parte dal Mazzini all'altra va a finire mi corri tutte le settimane praticamente sì 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 hai detto non volevo alla fine mi sa che sei contento così però no sono contento non so se sono contenti in famiglia ma tu sei contento così no 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 anzi la moglie mi incita ah beh allora va bene a casa mio padre per lavoro e mio mamma un po' così per l'apprensione un pochino meno però no sono contento di qualità perché sia Andrea Mazzini sia Andrea Mazzini sia Alessandro Re cioè con entrambi ho stabilito un bellissimo feeling sono essendo più piccoli di me di di quattro e di sette anni sono li vedo un po' come ma ti ascoltano anche via mi sembra di capire sì ma sono li vedo un po' come fratelli minori e poi sono ragazzi appostissimo ci mettono la testa sempre non fanno mai le cose non fanno mai le cose a caso ma anzi ti seguono dai ti seguono sì sono ragazzi dirigenti quindi con Re fai l'IRC con Alessandro l'IRC Cup e con Dalmazzini il campionato italiano terra che sono tre gare di race day e altre le altre gare sono le gare del terra su terra del campionato italiano quindi saremo all'Adriatico al San Marino con gli altri Stefano anche Stefano Martinelli credo può essere intanto lasciamo queste immagini che tra l'altro sono molto belle poi ci vediamo quelle di Stefano adesso può essere contento di questa via di stagione perché Ciocco e Sanremo alla fine hai sei in testa al tuo trofeo sono in testa al trofeo Suzuki al campionato italiano R1 che è il secondo campionato italiano con la validità di campione italiano questo sei tu intanto? sì qui a Sanremo qui a Sanremo al Ciocco è andata bene a Sanremo anche nonostante che mi dicevi la macchina la macchina quest'anno fa un po' le bizze la prima parte di stagione al Ciocco abbiamo avuto molti problemi sui freni sui freni posteriori sulle pinze e poi a fine Ciocco si è rivelato questo problemino elettrico che sembrava niente a Sanremo invece ci ha tassato proprio abbiamo scampato un risultato perché abbiamo vinto Ciocco e Sanremo quindi soddisfatti però ci ha messo un po' di pensieri questo problemino anche perché ora questo problema andrà comunque risolto sì purtroppo quest'anno le prime tre gare del campionato italiano sono molto vicine molto attaccate quindi c'è anche poco margine perché da Ciocco a Sanremo ci sono state mi sembra due settimane da Sanremo a Targa Florio tre settimane in un mese poco più in un mese e quindi abbiamo cercato di capire dall'elettronica cosa cosa viene però con scarsi risultati ora dopo dopo questo Targa Florio ci sarà un bel rialzo e sicuramente si troverà il problema avevamo invitato anche il tuo navigatore per motivi di lavoro Pietro Brugiat che però stasera faceva un po' tardi quel lavoro e non poteva scendere fino a Lucca ecco con lui ormai mi pare che c'è un filo mentre Giacomo è navigatore di due piloti tu ormai c'hai il navigatore fisso almeno quest'anno perlomeno salvo problemi di lavoro ma credo proprio di no anche perché con Pietro ci conosciamo da una vita e due anni fa abbiamo fatto tre gare dell'italiano insieme e quest'anno siamo ripartiti tutti e due col piede giusto e c'è molto molto feeling in macchina l'anno scorso ti è rimasto un po' insomma più un po' nel gozzo non aver vinto il Suzuki Rally come si chiama? Suzuki Rally Trophy Trofeo Suzuki vabbè Suzuki Rally Trophy e quest'anno sei partito già prima e hai detto no quest'anno quest'anno tocca a me no speriamo perché è sempre lunga no l'anno scorso purtroppo siamo partiti bene poi subito a Salaremo c'è stato un errore mio poi le gare di mezzo sono stato un po' sfasato e sul finale di gara era in grande forma nel mezzo proprio no e sul finale ci siamo ripresi un po' siamo arrivati terzi ma terzi anche nel campionato italiano sempre quest'anno l'avvio mi sembra perlomeno promettente l'avvio è molto promettente visto che la macchina oltretutto ha anche qualche problema aver vinto le prime due prove va bene dai quando torniamo andiamo a Liburna dove c'era il nostro amico hashtag NC3 al secolo Nicola Caldani e purtroppo le cose non sono andate benissimo vedremo anche delle immagini abbastanza spettacolari diciamo subito che Nicola sta bene per fortuna non ci sono problemi però sono anche rischi annessi e connessi delle corse a tra poco allora eccoci tornati in compagnia di Giacomo Ciucci e Stefano Martinelli che sono i nostri graditissimi ospiti di questa 27esima puntata abbiamo fatto un po' il punto sulla loro situazione nel 2017 Giacomo ci ha detto che insomma sarà diviso tra asfalto e terra tra re Alessandro Re e Andrea Dalmazzini invece Stefano Martinelli campionato italiano rally Suzuki rally trofe con la sua Suzuki con il suo navigatore Pietro Brugiat ha vinto le prime due prove del ciocco di Sanremo adesso poi ne parliamo ti prepari al lungo viaggio verso la Sicilia verso la Sicilia ricordiamo 21 e 22 no le date esatto 21 e 22 venerdì 21 e sabato 22 la centunesima edizione della Targa Flora poi con voi voglio fare il punto un po' anche su questo avvio del campionato italiano prima però a Garo Giacomo andiamo a Liburna perché mentre tu eri impegnato all'Irenas il giorno prima al sabato c'era il trofeo Liburna giunto alla 56esima edizione se non ricordo male abbiamo delle immagini che riguardano proprio il nostro diciamo Nicola Caldani il nostro amico adesso la ricerca ce le proporrà eccole qua le vediamo perché tu hai mai fatto questa gara Giacomo ti è mai capitato fatto l'anno scorso sono arrivato terzo ecco guardate un po' guardate un po' guardate un po' l'ho fatta l'anno scorso con Andrea Dalmazzini siamo arrivati spaventoso eh sì no io vabbè non so se l'avevi mai viste l'avevi già viste no sì l'ho viste poi per fortuna poi scendono Nicola Caldani e Sauro Farnocchi altro nostro grande amico scendono illesi eh però adesso la ricerca ce la ripropone vorrei sentire anche Stefano che è successo Stefano secondo te? ma secondo me sembra che sia uscito dalle rotaie al fine fine curva e ha toccato il muro col posteriore cioè su terra è importantissimo rimanere nelle rotaie le rotaie si intende sono quei due specie di binari che si formano dopo un po' di macchine che sono un pochino più puliti eh il problema su terra è che quando si esce un attimino da quelle poi la libuna terra sulla prova di Luglignano che è quella lì che era ex pro del mondiale è importanti cioè è veramente più importante perché il suolo è durissimo come si esce c'è ghiaia che ti smuove e ti spara via e e lì veramente è molto più importante in altre gare dove magari la terra è diversa a fondo è diverso e comunque anche se esce un pochino hai comunque motricità si è lì si vede prende tanta polvere sull'esterno con la ruota posteriore e lo spara fuori poi dopo si vabbè ci sono oggi fossi c'è un po' di tutto quindi comunque anche sfortuna secondo me che si è agganciata la macchina a qualcosa che gli ha fatto la trampolina perché se c'era un campo un pochino pari andavano in campo ma ditemi una cosa Stefano qui ci si poteva anche far male qui si questa è la classica volta è molto spettacolare poi li vediamo uscire dall'abitacolo sia Nicola che Sauro insomma il lesi però accidente la macchina un po' meno sono macchine molto sicure queste questo è importante sottolinearlo casomai macchine molto sicure sono lì fuori che chiacchiano ma alla fine fondamentalmente finché rotoli secondo me perdi energia rotolando quindi il problema è se tu andassi a trovare un ostacolo il problema il problema è quando la macchina si ferma comunque o perdi quasi tutta l'energia cinetica che ha in un urto singolo vedendo dal punto di vista fisica se gli dici fortanto per essere le gare loro escono di stare e trovano un muro per dire una pianta un muro un albero un albero io ho fatto un incidente tre anni fa con Renato Travaglia in Sardegna si preseva un pino praticamente di muso di quadri sono duri e non ci si fece niente perché fondamentalmente la macchina era una Mitsubishi gruppo R che era totalmente derivata dalla stradale quindi la scocca è molto più tenera molto meno rigida rispetto a quelle che sono le R5 che sono macchine che nascono hanno le sembianze di macchine stradali ma alla fine sono macchine sono completamente diverse sono completamente diverse quando si rotoli l'energia si scarica e perdi pezzi esci quando esci fuori ma i sui danni non li fai no certo stavi meglio prima perché comunque qualche botta quella la prendi ma voi quella volta lì vi faceste male? no niente di facile fortunatamente assorbi quasi tutta la macchina un'altra volta che mi sono capottato tante volte su terra con Paolo Pesavento ma ti parlo del 2010 si uscì era si fece 12 secondi di capottamenti continui 12 secondi sono tanti non ci rimanere quelli che abbiamo visto ora saranno non lo so se andiamo a velocità normale non lo possiamo rivedere saranno 3-4 secondi 12 secondi di capottamenti perché non c'era niente si cominciò a capottare per via così di un poggio però proviamo un po' più o meno a calcolarli da quando cominci eh no ma lì un paio di colpi e basta forse il colpo più grosso l'ha preso lì quando ti ho fatto vedere diciamo 4 secondi ho contato un po' senti a te Stefano è mai capitato diverse volte cosa si prova in quei momenti io le ricordo più forte che ho avuto nel capottare è stata la mia prima gara nel 99 con una 106 proprio all'esordio da Cune mi hai pensato hai detto ma chi me lo fa fare no l'adrenalina mi fece anche riaccendere la macchina solo che dal era la prova che era un città di Lucca e dal tornante di Cune sotto il tornante arrivi fino a Borgamozzano via Selva e fu bello lì fu bello sì eh me lo immagino di notte che non vedevo cosa cosa mi aspettava cosa si vuole pensi hai modo di pensare ma in quei momenti lì sembra la vita pregare non lo so almeno a me mi sembra una vita quando ho cappotto cioè sembra non un secondo è vero che si ripercorre tutta la vita in pochi secondi no si aspetta la botta finale si vabbè ho capito va bene dai in bocca al lupo a Nicola Caldani dai Nicola stai bene un grosso saluto è andata così pazienza campionato italiano Giacomo allora mi sembra che campionato italiano rally poi sentiamo anche Stefano prime due prove Ciocco e Sanremo hanno detto che Palano di Luce è tornato a patto che se ne fosse mai andato e figura a vincere questo campionato mi riferisco a Campedelli per non dire scandola Perico e compagnia viaggiante dovranno fare i conti con lui ma io non mi ricordo dei punti ma mi sembra che c'è Paolo primo Perico secondo ora te li trovo allora Paolo Andreucci 25-5 Perico 18 Campedelli 16-5 Scandola 15 poi alla fine sono i 4 credo ma fondamentalmente cioè considerando che poi Perico molto probabilmente non andrà a fare la terra farà solamente le gare di spalto il fatto è che se te guardi in singola gara comunque ce n'è qualcuno che può star lì con Paolo tipo Campedelli tipo Scandola qualche prova Campedelli molto vicino nei tempi anche al ciò perché Andreucci però devi considerare il fatto che magari Paolo quello che fa lo fa andando al 90% invece gli altri dici sono al limite magari gli altri sono sempre un pochino più al limite e lo sbaglio ci sta sempre tu l'hai visto al ciocco al ciocco dove hai corso io ho corso al ciocco ho corso con con Ivan Ferrarotti che mi chiamò praticamente all'ultimo minuto percorre però i ritmi erano altissimi il fatto che comunque hai visto gli altri comunque Paolo arriva sempre in fondo fa mai un graffio al ciocco si è ritirato ma non per colpa sua ma per via del motore comunque gli altri escono con un fianchettino fatto con una ruota storica probabilmente è segno giustamente come hai detto te che vanno al limite volevo sentire anche Stefano tu l'hai visti sia al ciocco che a Sanremo 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 Paolo mi ha impressionato quello che dicono tutti a Sanremo aveva tanto secondo me un'altra rinta perché era uscito da un ritiro della gara 2 del ciocco amaro perché neanche per colpa su era un po' arrabbiato un po' arrabbiato e poi ha messo dietro un pilota ufficiale di Hyundai che è una giovane promessa ma che al mondiale non arriva infinitesimo sarà sicuramente è sempre nei 10 come minimo un candidato nei prossimi campionati del mondo e lì l'ha stracciato proprio secondo me ha avuto un altro passo e lì fa vedere che Paolo c'è sempre stato secondo me e se ne chiuderà sicuramente il campionato se tiene questi ritmi qui molto presto perché non vedo altri avversari molto vicini a lui Giacomo il fatto di mettere dietro uno come Aiden Padman che uno potrebbe dire vabbè questo Aiden Padman forse non ha l'abitudine non lo so alla macchina tutto perché alimenta qualche rimpianto alla fine oppure è un discorso che facciamo da anni ma perché uno come Paolo Anderucci non ha fatto e non fa il mondiale diciamo che Paolo secondo me l'aveva anche poteva avere le occasioni per arrivare per arrivare il mondiale e ne aveva tranquillamente tutte le potenzialità per stare nei primi già ora quando si è fatto il mondiale in Sardegna con l'R5 comunque addirittura un anno ottavo assoluto con l'R5 comunque primo di VRC2 purtroppo per Paolo forse non è o non è stato nel momento giusto al posto giusto quelle che le chiamano slide indoor diciamo diciamo che c'è stata anche qualche personalità che non lo ha agevolato anzi dici? sì di sicuro personalità o personaggio? personaggio qualche personaggio qualche personaggio diciamo qualche senza fare nomi senza fare nomi però Paolo secondo me poteva essere tranquillamente la nel mondiale con gli altri a giocarselo a giocarselo ma comunque comunque a più di 50 anni no non dico ora dico magari ci fosse andato 10-15 anni fa no ma magari era uno che ci stava anche che ci arrivava ai 26-27 anni e ci stava per 20 anni nel mondiale tranquillamente ti mostro anche ora perché tra l'altro ha una longevità uno dirà vabbè fa il campionato italiano accidenti però qui abbiamo due che insomma i rally li fanno ormai da qualche anno ha una longevità che vuol dire longevità avere una condizione fisica e mentale invidiabile al 100% sempre comunque nonostante tutto tu hai 20 anni penso meno di io ho 36 anni 15 anni e più comunque sia non devi restare in macchina perché magari non è la macchina te schiacci e va no è fatica con la mia che è una categoria di macchine derivate dalla serie quindi hai un po' meno aiuti delle macchine nate per correre però nella sua ha molta più preparazione fisica più più velocità più riflessi e comunque sia al di là che tutti lo criticano per gli anni che tanto e tanto se va nel mondiale ora Paolo secondo me una o due gare poi è lì come è che sia tanto lontano senti come andiamo al Targa Florio quando partiamo si parte lunedì si parte per la spedizione Garfagnina ha detto spedizione come fosse la spedizione del 1000 sarà sicuramente una gara difficile perché i miei scogli erano Sarremo e Targa Florio Sarremo ha sfadato il mito che se è vinto ora tocca il Targa Florio non è facile perché è una gara difficile in tutto e per tutto strade differenti tipi di asfalto hai già fatto il Targa Florio l'ho fatto per gli ultimi due anni come è andata? è andata mi sembra il primo anno sesto e l'altro anno quinto bisogna perlomeno migliorare no il ruppi di ruida l'altro anno però è una gara che sembra facile perché è molto veloce è molto leggera come curve però è molto difficile perché ha un asfalto che non perdona vabbè lei poi bisogna difendere il primato bisogna difendere il primato torneremo invece Giacomo il tuo prossimo impegno dove ti porterà? i prossimi sono a maggio per aprire basta Pasqua Pasquetta 25 poi dopo no si va Adriatico e Taro Adriatico su terra Adriatico la prova del campionato italiano e poi e poi il Taro che è la seconda gara di ieri C-Cup perché l'anno scorso l'abbiamo perso per il decimo di secondo ah già quindi anche lì è stato un secondo posto molto più amaro cioè se questo qui siamo usciti fuori contenti perché la macchina era nuova e tutto l'anno scorso il secondo al Taro fu fu veramente amaro sì perché è un decimo di secondo davvero a te mi è capitato di perdere una corsa per tre decimi un decimo l'altro anno ah per un decimo ci si rimane male perché nel trofeo siamo tutti molto vicini ci si rimane male no un decimo ma neanche una gara dei 100 metri comunque mi ricordo l'anno scorso anno a Targa Florio su una prova quella di campo felice di Rocella che è molto tutta in discesa io primo e col pari tempo a decimo preciso esatto sarà sera per esempio il solito identico tempo fino a decimo su una prova uno dice ci può stare però perdere una corsa per un decimo per tre decimi un po' brucia dobbiamo chiudere qui vi ringrazio di essere stati con noi bocca al lupo tanto a Stefano perché sarà quello che correrà quest'altra settimana mi raccomando grazie Giacomo grazie anche a te di essere intervenuto naturalmente Rombo di Motori torna mercoledì prossimo come sempre andiamo avanti insomma perlomeno credo fino a fino a metà giugno perlomeno poi vediamo perché poi durante l'estate magari una piccola pausa ce la dobbiamo concedere anche noi grazie grazie a Matteo Bedini che ha curato la regia del programma e appuntamento alla prossima settimana